La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato beni per un valore di circa 100.000 euro nei confronti di una persona che omettendo di comunicare all'Inps la sua emigrazione in uno stato estero ha percepito indebitamente assegni sociali a favore di cittadini in difficoltà economiche che abbiano compiuto 65 anni d'età e siano residenti stabilmente in Italia. In particolare i finanzieri analizzando posizioni sospette hanno smascherato una persona di fatto emigrate in America Latina che tuttavia risultava fittiziamente residente in un comune dell'Alto Tirreno Cosentino. I meticolosi controlli hanno permesso di appurare che il beneficiario degli assegni sociali al compimento dei 65 anni era rientrato volutamente in Italia dalla Venezuela per richiedere la provvidenza ed era restato nel nostro paese per pochi mesi al fine di acquisire una residenza ad hoc aveva presentato all'Inps la documentazione occorrente per l'ottenimento del beneficio. Tutto apparentemente in regola ma raggiunto la scopa ed ottenuto il riconoscimento dell'assegno sociale l'uomo è ripartito per l'estero per far ritorno nel paese dell'America Latina. Per questo motivo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di truffa continuate in quanto di fatto ha aggirato i requisiti richiesti dalla legge vigente per ricevere specifici contributi erogati dall'Inps, vale a dire la dimora effettiva sul territorio nazionale.